Allora, regà, andiamo a vedere subito una cosa, trasferimenti. Il bala c'è il base, l'if non c'è. Vedete quanto sta il gold, potremmo già fare un team commessi, pensa un po'. Eh, ma poi regà sta attiva a due milioni e mezzo, me sa. Due milioni, un milione ieri quando abbiamo visto Vini. Ah, vediamo qua Raschelia, vediamo se qua Raschelia abbiamo trollato. Alla fine 50k qua se offri te lo porti a casa, eh. Cioè, regà, ma 80k Piosi Man? Quel prezzo muore, prende. Ma regà, 100k è gratis, oh. Facciamolo! Uh, Quaraschelia gioca pure a destra. Vedete chiesa? Ma chiesa è gratis? Ma bro, ma chiesa a sto prezzo, bro, è regalato. Oh, mi devono arsi a me 19, porco Dio, ma arsano quello lì a 18 l'avevo fatto porta a casa. Oh, me piace il corpo. Mortasci vostri, oh. Ma guarda questo come arsa. Ehi, quella a 18. Ma non è che è lo stesso? Ma non è che è la stessa persona che sta a fare le zanate? Fa un culo, va. Ma poi a centrocampo che c'avemo, scusa? Cioè, Serie A che c'è sta a centrocampo? Barella. Ma 30k per Barella a me mi parano giusti. Io direi in 4-3-3 la formazione, no? Così, man, Leao, Teo, chiesa. Io c'ho Rabbiò. Chiaramente Renato. Beh, sta pure Di Lorenzo che c'ha una cartona. Qua c'ho solo Sommer. Ma raga, sei in mischio. Cuba Megano. Di Lorenzo mi chiude Chiesa e mi chiude Osimane. Poi il cavallo non è necessario. A quel punto poi mette pure Renatino. Leao non credo... Vabbè. Fermate, oh. Un po' troppo offensiva. Dici, vè? Vabbè, lo ho. Zambo. Oh, gioca CC. Perfetto. Bello! Puoi mettere Walker Guardiola Ederson. Volevo chiudere un'altra lega tra questi. Walker è top, però... Cioè, gli devo mettere, capito? Stones. Bissara, dici bello chi c'ho? Fammi vedere. Ci abbiamo pure Marquinhos, che bello, eh. Perlomeno sarebbe un immettibile. Io non posso levar manco Zambo Anguiz. Oh, se no gioco co' Ederson a due, ma che cazzo me frega. A meno che non gli si mette un allenatore britannico. Cazzo ce ne frega. Puliti. Bella, eh. Dai, famosi in game, oh. Andiamo, va. Oh, sì, man. Leao! Ecco qua. Era meglio chiesa a punta. Che sta squadra, mi pare, di laboratorio? Troppo forte. Tocca da un gretalla. Questo attacca bene, eh. Cioè, difende pure bene. In realtà è bravo. A difesa mia, mi pare, di un lentume. Bene. Ottimo Bremer. Leava Sané. Mette chiesa a destra, leava a sinistra, osima in punta. Ma che quitta, ma che quitta, regà. Ma che quitta. Questa si ribbia pure. Ma, eh, me sta andando a più a per culo. Dai, regà. Porco Dio. Ma che gol le prendo? Matteo Hernandez è un pippo. Premiro. Non c'ho proprio possibilità. Mamma mia, un pamecano, regà. Mi pare un coglione. Ah, ho capito. Ma i volenti. Macchinosi. Ah, eh, sì. Bellingham vola, invece. Certo, c'è sta. Guarda che velocità, oh. Eeeh, la madonna. La madonna. Ma Ederson, ma svegliate perpendicolari. Ma via sto team de merda. Amo, li vendo tutti, porco Dio. Diamogli una seconda chance. Apro qualche pacco, regà. Fino a 10k. Sì, però, ragazzi. Cioè, ma dopo dobbiamo rigiocare un attimo con la serie A, eh. Perché la serie A è andata così male. NCSP. Non ci siamo proprio. Neanche un if abbiamo trovato. Il suo cane. Bellissimi i miei walk out. Walk out. Eh, questo è il grande traguardo, il grande raggiunto. Sììì. È godo. È godo. È sto godendo. Avete visto quando è walk out? Ve l'ho svelato. Boom. Si esce e si va a giocare Rimette mece Bremer Leva al cazzo sti imbecilli Ma leva pure Zambo Anghissa Porco due Leva Upa Meccano E leva st altro coglione de Sanè Metti chiesa a destra Qua Rascheli a sinistra Jude Bellingham Jude Bellingham ciuccia Meni è un centrocampo che mi addrizza l'uccellino Mamma si ma 180 a me mi pare poco Allora Perfetto La squadretta pare carina eh Andiamo dai Voglio fare la divisione 7 Ho capito Andiamo Vabbè ma che ci frega a noi de quello Noi c'èmo qua Qua Raschelia bro Madonna quel laghetto Vai Terminitao Fammi vedere che vali 180 mila crediti Che mi parano pure pochi E' finita per noi ragazzi Si può difendere Già non so un po' Ma vuoi ciuccia meni Svegliate Ma regà palese A lui non gli lagga Ma regà a lui non gli lagga Palese Premer Porco dio Ma è una merda Senta E sta squadra C'ha una maledizione Rosso Uno dei rigori più brutti Della storia del calcio No regà Porco dio C'è No ragazzi Imprendibile Sta cazzo di palla I miei sono Dei Dei E' indifendibile E' indifendibile Questa roba Bravo Si Si Mamma mia Quaraschelia Clean Regà Bremmer è un bot Bremmer fa cacare Porco dio Ma sembra il gigante corazzato Dio cane si fa bullizzare da Carrasco Aleao No 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 Oh Varane ma rotti Coglioni dio porco Ma perché lo fanno sempre forte Aleao Ferreira Carrasco Ferreira Carrasco Varane La mia difesa è un meme Ma che cazzo di difesa c'ho Rimannala Com'è possibile che giochino così in difesa No porco da me no Bremmer stai attento Questa è l'ultima chance che ti do per fare una partita degna Due partite sta squadra Due sconfitte Regà se non vinco questa qui Rischio di far vola a tutti E io ve lo dico Non è possibile che gioco meglio quelle squadre scarse Leao Boom Playstyle plus E perde la palla in velocità da McAllister Leao prendi un volo di Ogane Bremer Porco Dio stanno tutti in anticipo sto impazzendo Regà Come si muovono i suoi giocatori di Oporco Leao E' bellissimo in game regà E' troppo bello Con i capelletti fatti Pulito Simenti Oddio E' pazzito Ma il portiere che è un serial killer Zio cane Mamma Ederson mi sta parando tutto Non riesco a attaccare col 4-2-3-1 Bro ma quanta densità c'è in mezzo al campo Cioè guarda poi sembra che faccia costantemente Tattiche tipo del fuorigioco capito Stanno in undici Al centrocampo No cazzo vado Ma che tattiche c'ha questo Non mi seco più Mamma mia mi seco Ma che ne so Ma io devo capire che modulo c'ha questo Scusa Cioè veramente non capi Ragazzi sto soffrendo Sta squadra è riuscita a vince Regà mi sa che faccio pure un 4-4-2 Bisogna continuare a giocare I am French Porco Dio ragazzi Ma quando arrivano i napoletani sul gioco Vediamo che è morta Qua capocciata al palo Toc toc bussano alla porta Così man Porca madonna Oh lei va mi questa Ma Nooo Nooo Si venne Ah 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 Che mi sto Che è Mamma mia guarda schelia come si è mosso Paralava Paralava Buttaceli guanti Stanno me sa che Mi riserve Il coach di Dani P Eh Io ti direi una roba Che in realtà è carina Mille FIFA points Ragà Investiteli Nell'evoluzione Moncheritos Leau Leau E vai Dritto Gol della merda Arrivo Riprendo il pallone Ciuccio i cazzi Tutto insieme Prendo solo gol Della merda Di Ogane Oh Kvaraschelia Ecco qua Eccoci De realzanata Ragazzi Quanto cazzo è bella la zanata Porco Dio Ma tu vuoi mettere Porca muttana Abusare dei gol Della merda Quando puoi fare la zanata Che ha tutto un altro livello Di spettacolarità Non ti preoccupare È giusto Stiamo parlando di un signore africano Alto 1 metro e 88 Un 85 Non vi preoccupate ragazzi Infatizziamo Un 88 Vola Vola Omisen Posso pagare win Mannaggia la troia Godo Bravi Il 77% Hanno bettato win E Godo Vola Og cre妈a Alla